Bella ragazzi sono Ariane e benvenuti in questo nuovo video dove vi faccio vedere come ottenere queste Regan Mark II X che sono l'unico modello che una volta potenziato diventano doppie e per ottenerle raga dovrete aver fatto prima il kit di assemplamento e dovrete aver ottenuto il telaio delle Regan Mark II di cui già ho parlato in precedenti video adesso partiamo subito con la intro, bella! per questo genere di potenziamento blu raga avrete bisogno di Gela Morti quindi dopo che l'avrete fatto vi dirigete in questa zona e ci saranno 3 spot precisi con la quale poi potrete ottenere appunto il vostro pezzo delle munizioni adesso raga dopo aver preso il pezzo vi dirigete nella zona della piramide nel controllo APD e inizieranno a spawnare degli zombie con una giartascia ghiacciata ecco voi dovete sparare con Gela Morti e dopo accoltellarli nel mio caso raga c'erano le texture che non caricavano infatti a volte non si vedeva che a terra c'era questa sborrata che hanno lasciato appunto gli zombie dopo averne prese 2 massimo 3 ecco il personaggio comincerà a parlare Rushmore e quindi il low step è stato fatto correttamente come diceva Rushmore appunto inserite gli oggetti che avete ottenuto e cominciate questa sopravvivenza dopo aver fatto un certo numero di kill diciamo che vi rilascerà le munizioni ecco il contenitore di munizioni e sarete pronti ad ottenere la vostra Regan Blu raga io vi saluto diciamo che anche originale questa Regan è molto forte però potenziata ovviamente che spara 2 è veramente una bestia come dicevo vi saluto vi ricordo di passare da Instagram di iscrivervi se ancora non l'avete fatto ci becchiamo un prossimo video bella iscriviti al nostro canale